Arte e Osterie insieme per vivacizzare il centro storico. Dal 15 al 17 giugno, Treviso, città del buon vivere per eccellenza, ospiterà la seconda edizione di Arterie, evento ideato per fondere il gusto della tradizione enogastronomica della città, con la spinta artistica prodotta da 15 giovani talenti, che su un tappeto rosso appositamente allestito, porteranno musica, pittura, scultura e fotografia all'interno di 15, tra caffè, cantine e osterie del centro. L'ispirazione di Arterie è impegnativa e richiama dichiaratamente le geste dei mecenati rinascimentali, che per valorizzare e animare le proprie città, usavano portarvi gli artisti di grido dell'epoca. Treviso, che è una città d'arte per antonomasia, abbiamo deciso di celebrare in questo modo l'arte, facendo vedere che la città vive, non è una città morta, è una città che produce, che ha voglia di fare, e il connubio con l'arte, questo parallelismo con il rinascimento, secondo noi casca a pennello. Ci teniamo all'arte, però l'arte la fa l'artista, quindi la persona principale è l'artista. Noi abbiamo la necessità di enfatizzare questo patrimonio culturale, che sono appunto gli artisti, che con la loro vitalità, con la loro linfa vitale, ci danno l'opportunità di vedere un qualcosa, che è l'arte, che ha un po' il senso del bello. Bene o male tutti quanti noi siamo critici d'arte, tutti quanti noi sappiamo quello che ci piace e non ci piace, ed è grazie agli artisti che veicolano questi sentimenti. Dunque un connubio tra l'arte e lo spirito più profondo della città di Treviso, per un evento che è nato sulle ceneri della defunta Ombra Longa. Era una grande orgia di vino, una festa dello sballo, e quindi poco portava poi alla città, tranne dei problemi anche di natura di ordine pubblico. Si è voluto girare pagita, nasce da Arterie, nasce da un'idea di gente di marca, che a me è piaciuta molto perché coniuga due peculiarità di questa città, che è il buon bere, non il bere tanto, ma il bere bene, e l'arte che è sicuramente uno dei tratti distintivi di questa città.